Bentornati e benvenuti alla puntata numero 23 di Motor News Benvenuti a tutti, ciao Selena Ciao Marcello E noi abbiamo tante notizie, stavolta abbiamo pensato la stessa cosa anche perché dobbiamo correre, il tempo è molto tiranno e subito Selena ci legge qualcosa della Volkswagen che presenterà al Salone di Francoforte Sì, infatti a settembre nel Salone di Francoforte Volkswagen presenterà il nuovo SUV, Tiguan Autentica crossover con caratteristiche di guida che si rivelano ottime su strada e perfettamente adatte anche in fuoristrada Le accattivanti proporzioni che danno forma al frontale della Tiguan sono le medesime della Concept A lo studio di design che lo scorso anno ne ha anticipato in modo affascinante i principali tratti estetici La linea laterale allungata ha un carattere forte, con gli ampi acchi del passaruota e l'inconfondibile montante posteriore tipico della Volkswagen, bene in evidenza Lo sbalzo limitato e il taglio netto caratterizzano invece il posteriore Una buona dose di carattere viene espressa anche dai gruppi ottici anteriori e posteriori che ben si integrano nel design della vettura Per quanto riguarda i motori, la Tiguan sarà disponibile esclusivamente con unità che combinano l'iniezione diretta del carburante e la sovralimentazione Complessivamente la Tiguan sarà offerta con tre motori benzina TSI e due diesel TDI Tra tutti spiccano i TDI Common Rail di nuova generazione, estremamente silenziosi che sviluppano potenze di 140 e 170 CV e che fin da 1750 giri forniscono rispettivamente 320 e 350 Nm di coppia alle quattro ruote motrici E ora ci vediamo al servizio della Volkswagen Cross Golf La nuova Volkswagen Cross Golf è stata rivista nel design ed ora si può considerare sia un SUV compatto che una piccola multipurpose vehicle E questa nuova linea che vedete nelle immagini sono state studiate da Volkswagen Individual la divisione interna all'azienda che si occupa delle rifiniture dei veicoli e che ha già lavorato nella Volkswagen Cross Polo La gamma di questa vettura include quattro motori da 120 HP a 140 HP di potenza Mentre SUV è l'acronimo di Sport Utility Vehicle e questa denominazione è dovuta alle diverse possibilità di impiego del tradizionale off-road MPV, che come detto precedentemente è il multipurpose vehicle e viene riferito alla possibilità di impiego come van Per ottenere queste caratteristiche il telaio della Cross Golf è stato modificato rispetto a quello originale della Golf e con il variabile spazio interno di fatto la vettura non possiede nessun concorrente diretto nel suo segmento L'immagine e il design esterno evocano il mondo del SUV Le bande del tetto colore argento, la posizione del radiatore, il nuovo design dei paraurti e le bandelle laterali colore verde antracite offrono un look aggressivo alla vettura che è stata equipaggiata con ruote da 16 pollici ed è stata rialzata di 20 mm Il colore esclusivo Ice Silver Metallic è disponibile come optional Gli interni della Cross Golf offrono un contrasto ricco di colori I materiali di colori del rivestimento dei sedili ed i componenti metallici del cruscotto sono stati sviluppati specialmente per questo modello Volanti in pelle, pedali con look in alluminio e il climatizzatore di ultima generazione sono parte dei generosi equipaggiamenti interni Per quanto riguarda la gamma di motori, sono previsti due propulsori a benzina e due diesel Questi ultimi erogano potenze di 75 kW e 77 kW mentre i motori a benzina erogano la stessa potenza di 103 kW ma l'iniezione diretta di benzina del motore TSI offrono una coppia eccezionale e agilità nelle caratteristiche del motore Sia il motore TSI che i motori TDI possono essere equipaggiati a richiesta con doppia frizione sistema DSG come optional Come gli altri modelli Golf, la Volkswagen Cross Golf è stata equipaggiata con il sistema ESP programma di stabilizzazione insieme ad altre funzioni che agiscono sullo sterzo sui freni quali ABS e 6 airbag inclusi come equipaggiamento standard Sia il motore TSI offrono una coppia eccezionale